Aspettate, 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 e... ci siamo. Server suo. Due punti, 27, 0,15. Ci sono... Sto entrandoci. P... Pino col pipino, eccolo! Ciao! Ciao! Dai, premi ok, bastardo. Cari. Arconabbo, eccolo, è nel cesso che pizzo. Cos'è? Cos'è? Come faccio a vedermi? Non puoi vederti, però se premi petta, lo dico subito. Vai su Esc Option e vedi il tuo personaggino, lo puoi anche selezionare. Si fa da presto, merda. Si, si, mamma, si. Disconnette. No, Arconabbo, Pino, si è scrasciato. O te ne sei andato? No, no, non sono scrasciato. Sono... sto... sto glitchando? No. Sì. Arconabbo has left the game. Non è entrato nei cessi che le è stata del gioco, cazzo! Dice, sei stato disconnesso dal server. Ragione, il canale è andato in overflow. Esatto, anche me. Vabbè, non è entrato nel cesso. Pino, sei dentro te, però, eh? Vieni qua. Sì, ma non riesco a premere ok. Dai, Arconabbo arriva, esci. Aspetta che sta scaricando della roba della mappa. Aspetta, come faccio ad uscire? Ok. Vieni qua, andiamo. Eh, sei Mr. G, fantastico. Allora, devo andare nella stanza delle partite. La stanza delle partite forse è qua sopra. Io invece vado sotto. No, è qua sopra, vieni, vieni. Classic mode. Qui, qua, 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 qua. Che figata. Dai, Simone, muoviti. Ma aspetta che sto guardando in giro. Ma no, ma lascia perdere, guarda in giro dopo. Sono appena morto, tipo. No, hai 13 HP. Ma perché ne ho così poco? Tra l'altro hai soldato 50 di ping e fino a 86, quindi è ottimo. Sì, sì. Allora... Arriviamo un arco, ce la fai? Ma aspetta, dove devo andare? Ma porco il clero, vieni qua, froncio. Entra qua. E... Chapter 1. Come giocare? Ok, do you want to play intro? Eh, yes. Naturalmente stiamo lasciando Pino fuori, tipo. Pino, premi qua e premi yes. Qua c'è tanto. 10 secondi rimasti. Ok, vado a fare un giro. No, stai qui! Stai qui! Ma porca è, vado a fare un giro. Guarda, ragazzi, venite qua. Venite, venite, tornate nella stanza. La forza non si apre. Ok, si è aperto. Chissà se ce la facciamo. Cazzari di merda. Ma guarda che mi prendi fuori uno stronto. Sta fermo! Simone, ho stato un profumo. Aspetta che devo abbassare il volume. Dai, riproviamo, riproviamo, Ray. Chiudi un attimo, va là. Ivan. Io odio. Mi sa tanto di... Rage Shutdown, quello che è stato... Si è appena verificato, vero? È aperto, venite. Prendi i dp di Simone. No! Andiamo su quello di Ivan. Ma stavolta... Ma stavolta che erano andate in giro come dei coglioni, lo sapete? È il trucchetto. Non andate a fare i cazzi propri. Non riesco ad uscire. Basta che ti avvicini alla porta. E la porta non si apre se vi avvicino. Ma in che accesso sei? Non lo so, sono bloccato. Ah, non è il voglio delle donne. Ascolta, esci e rientra. Non so cosa dirti. Hai una granata! Oh, eccolo. Perché tutte e due scienziati, io e te? Scienziate! Hai visto? Non riuscivamo a passare neanche dalla porta. No! Cosa è successo? Chi è che ha votato no? Ma perché mi ha votato no? Fermi, fermi, fermi! Aspetta, aspetta, 10 secondi. Madonna se siete un po' dentro! Voglio venire anch'io. 3, 2, 1... Oh, ce l'abbiamo fatta! Oh, ce l'abbiamo fatta! Grazie.